Anche a fine mese l'alta pressione dovrebbe farci compagnia su un po' tutto il Mediterraneo, soprattutto centro-sud e isole maggiori, ovviamente per la gioia ancora dei vacanzieri che avranno qualche giorno di ferie al mare. Per quanto riguarda già le regioni settentrionali, qualche temporale giungerà con gli ultimi giorni di agosto perché si faranno sentire strada le correnti più fresche nord-oceaniche verso Francia e parte di Spagna. Si getteranno poi sul Mediterraneo, probabilmente proprio a cavallo tra gli ultimissimi giorni di agosto e la prima di settembre le temperature saranno in lieve caldo anche il centro-sud con qualche rapido temporale di passaggio. Insomma entro i primi giorni di settembre dovrebbe sgonfiarsi questa bolla anticiclonica anche per le nostre regioni centro-meridionali. Nei prossimi aggiornamenti ovviamente saremo più precisi che esi.